No, io non sono d'accordo, anche perché l'hanno messo in una scuola e adesso a settembre quando ricomincia l'anno scolastico, tra un mese, non so come faranno gli alunni. Qui a Portogruaro, in questo plesso scolastico, c'è una palestra, una palestra proprio dietro la scuola dove ormai da oltre un mese ci sono una sessantina di extracomunitari che vivono qui. Possiamo parlare con voi? Possiamo solo chiedere di dove siete? Possiamo chiedere quanti siete qua? C'è qualcuno che può parlare di voi? Possiamo? Ragazzi, posso parlare con qualcuno di voi? Certo, infatti sto chiedendo. Avviciniamoci. Ragazzi, posso parlare con qualcuno di voi? No, siamo fuori, però si dovrebbe spostare. Aspettiamo. Ecco, abbiamo qualche difficoltà, come vedete, a parlare con il signore all'interno, non vogliono che li riprendiamo. I signori che stanno facendo i sorveglianti ci dicono che non possiamo parlare con loro, non capiamo il perché, non possiamo entrare, questo certo sì, loro possono entrare, noi non possiamo entrare. Non credo sia opportuno fare queste cose qua. Cioè stare lì? Sì, perché fra qualche mese quella palestra serve praticamente agli studenti. Una cosa problematica veramente, che mandano la gente qui senza avvertire niente. Iniziano a girare di sera e non va bene.